Oggi è il 25 aprile, l'arsenale intende festeggiare naturalmente la festa della liberazione e intende farlo parlando di cinema, per cui abbiamo con noi Luciana Castellina, con cui parlando prima dicevamo che c'è una cosa molto strana di cui si è accorto Crespi, ossia che non esistono film sul 25 aprile. Tu che ne dici Luciana? Ma io sono rimasta molto meravigliata, è una cosa scoperta di Alberto Crespi perché non solo non è mai stato fatto un film sul 25 aprile, ma nessuno si era reso conto che non c'era nessun film sul 25 aprile. Vale a dire che tutti i film, che sono stati moltissimi, si fermano al 25 aprile, cioè parlano della resistenza, ma non parlano del momento della liberazione. Eppure il momento della liberazione è molto interessante perché voglio dire, intanto è stato vissuto in modo molto diverso al nord e al sud d'Italia. A Milano dove la presenza partigiana in tutto il nord delle brigate militari partigiane è stato vissuto come l'ingresso di questi reparti, le brigate garibaldine che sono state un momento molto emozionante. A Roma noi la liberazione l'avevamo avuto un anno prima, era diversa. Nel sud, io ho scritto anche un libro su questo, racconta dei fatti storici, quando arriva il 45, siccome l'Italia è stata già da due anni là, da quelle parti diciamo liberata, c'è una rivolta dei braccianti, i quali dicono ma come? Io mi devo rimettere d'accordo per via dell'unità nazionale, del CLN, con i partiti dei padroni e quindi i padroni continuano agrari, continuano a sparare sui braccianti, i braccianti li bruciano nelle piazze dei paesi. Insomma è un modo molto diverso di viverlo e quindi un tema molto interessante per fare un film, eppure nessun film è stato fatto. Secondo te qual è? La ragione? È una ragione politica o è semplicemente una ragione produttiva che si ritiene che sia più interessante parlare della guerra che non parlare del dopo? Ma sai, io ho visto l'altra sera, perché ho dovuto fare anche io un pezzo di una trasmissione di Atlanti, della trasmissione che fa Purgatori sulla 7 il mercoledì, e quindi per questo anche, se no forse non me ne sarei accorta, è stato proiettato il film di Lizzani, che è il film sugli ultimi giorni di Mussolini, Dongo insomma, e sono stata contenta di rivedere quel film, ma è un film naturalmente molto, come dire, emozionante, ma anche un pochino antico, come dire, un po' demagogico, un po' oggi non faremmo un film così, perché quel momento è stato un momento eroico la resistenza e quindi è più facile descrivere un evento eroico che un evento molto contraddittorio come fu il dopo liberazione, perché non è che la società italiana di incanto si rivelò tutta antifascista, c'erano state molte resistenze, molte paure da parte dei potenti, quali emessero che ci fossero un stravolgimento sociale che li avrebbe colpiti, sono modi diversi di accoglierla e infatti dal 45 in poi furono anni in cui la unità antifascista fu messa a repentaglio, tant'è vero che nel 47 finì drammaticamente con il viaggio di De Gasperi in America e la rottura dell'unità nazionale, del governo di unità nazionale, cioè era un evento molto più difficile da raccontare e queste forse sono degli anni, dei momenti molto più difficili e forse questa è la ragione perché nessun registra se l'è sentita, chi lo sa se ne sarà qualcuno che se la sentirà adesso. Un'altra cosa che si nota guardando i film che parlano della resistenza è che i film parlano della guerra di liberazione ma non parlano della società che la resistenza voleva far nascere, non parlano della società in cui la resistenza è nata, se non quello molto bello di Giorgio Diritti che è già ormai un film del 2009. Ecco, anche questa è una cosa di cui mi piacerebbe che tu commentassi. Ma infatti io, a me quando mi chiedono un film che parla della resistenza parlo di quello di Diritti, non so che non mi ricordo più neanche il titolo perché sono smemorata. E mi è molto piaciuto perché è il film che interpreta meglio un concetto che fu definito da Roberto Battaglia. Roberto Battaglia è stato un comandante della brigata garibaldina della Lunigiana, quindi qualcuno che conosceva assai bene la resistenza e che poi è stato uno storico molto importante, purtroppo morto in modo prematuro e Roberto Battaglia tiro fuori un'espressione che a me piace molto perché è quella che descrive meglio quello che è successo dal 43 al 45 e che il film di Diritti in qualche modo descrive, e cioè il concetto di società partigiana. Cosa voleva dire Battaglia? Che la resistenza non è stata solo un fatto militare. Certo, il fatto militare è stato importantissimo, assolutamente eroico, essenziale, ma accanto all'azione militare ci fu una straordinaria trasformazione della società e si può dire che una buona parte della società si trasformò in società partigiana, come? Non con le armi, ma attraverso quello che Piero Calamandrei ebbe poi a definire come i piccoli gesti quotidiani. Tutti fecero qualche cosa, donne, vecchi, bambini, perché in qualche modo parteciparono, nascondendo qualcuno dei partigiani oppure dei prigionieri che scappava e doveva nascondersi, procurandogli da mangiare nonostante mangiare ci fosse tanto poco per tutti. Insomma, in tanti modi diversi, ma anche sentendosi una comunità solidale e quindi sentendosi tutti impegnati a costruire qualche cosa di diverso. È molto interessante. Leonardo Paggi, altro storico importante, ha fatto uno studio di quello che sono stati i documenti dei municipi che fra il 43 e il 45 che furono e sono pieni di atti anche delle donne che in qualche modo si portano nel rapporto per esempio di matrimonio, anticipano addirittura in qualche modo il divorzio, l'acquisizione del diritto della persona, del diritto a dire la propria, a partecipare, a deliberare in modo diverso. Insomma, un embrione di società già liberata. E questo mi pare un concetto molto bello che dà un'idea della resistenza molto più ampia di quella che non sia stata l'azione militare che fu necessariamente un'azione che fu fatta da una minoranza, non da tutta la popolazione. E per questo il fin dei diritti che dà un'immagine di quello che avvenne in questo senso, a me pare quello che descrive meglio la società partigiana. Senti, questa società a tuo avviso quanto si è realizzata nel dopoguerra e poi nel passare del tempo, quanto c'è rimasto di quell'idea oggi e anche che cosa secondo te dovremmo raccontare dai ragazzi? Che cosa rimane? Cos'è il 25 aprile? Ma sai, guarda, a me mi meraviglia bene. Innanzitutto io credo che, io come metto in dubbio in qualche modo persino la parola resistenza, perché i partigiani non è che resistettero, dentro l'assalto fecero un'offensiva, io la chiamo un assalto al cielo, perché dobbiamo tenere conto che in Italia i partigiani furono una cosa diversa da quello che furono in Francia o in Danimarca o in Norvegia o in Olanda, eccetera. In tutti questi paesi i partigiani che ci furono, ci fu una resistenza importante per carità, ma questa resistenza operava a nome, diciamo, di un governo legittimo che c'era stato e che l'occupazione tedesca aveva spodestato e quindi lottavano per ripristinare una legalità e quindi avevano in qualche modo la legittimità che gli veneva dal governo che era stato spodestato. In Italia non c'era un governo spodestato e se tu ci pensi, io quando infatti racconto ai miei nipotini, adesso sono grandi, ma quando provai a raccontare ai miei nipotini la resistenza, ho capito che per loro è come se gli raccontassi la storia di Rambo, cioè la storia di Superman e di un racconto di fantascienza, perché tu ti rendi conto che lì si trattò di ragazzi che erano cresciuti col fascismo, che del concetto stesso di antifascismo non avevano nessuna conoscenza, che abbandonarono i loro reggimenti nei quali erano inquadrati per combattere oppure uscirono dai nascondigli che i più giovani avevano trovato prima di andare nella leva e andarono in montagna senza sapere chi li avrebbe coperti. Non c'era nessun governo in esilio che li avrebbe legittimati, quindi senza alcuna legittimazione si misero a sparare e a combattere per costruire una società diversa, di cui non avevano assolutamente idea di cosa sarebbe potuta stare. Fu, come dire, un atto di una spregiudicatezza e di un coraggio assolutamente straordinario, politico è difficile da raccontare. Fu molto di più che una resistenza, fu un'offensiva per inventarsi una cosa completamente nuova. Ora, questo, diciamo, è quello che oggi, celebrando il 25 aprile, io sento che dovrebbe essere l'impegno che noi mettiamo in questa celebrazione, che abbiamo bisogno di costruire una società diversa, perché quando si dice c'è i fascisti, i fascistizzanti hanno detto dobbiamo oggi combattere contro il virus così come combattemmo allora nella resistenza contro i fascisti. Non è vero, non dobbiamo combattere contro il virus, dobbiamo combattere contro un sistema che quel virus ha prodotto e quel virus non è che viene dalle stelle, viene dalla distruzione del nostro pianeta che abbiamo fatto e che non è che l'abbiamo fatta tutti, l'hanno fatta quelli che hanno inneggiato alla globalizzazione, alla supremazia del mercato, che hanno svuotato le istituzioni democratiche di ogni potere deliberante perché ormai decidono tutti le grandi imprese e i gruppi finanziari a livello del mercato attraverso accordi privati, di quelli che sono responsabili della cementificazione del nostro territorio, della deforestazione, della distruzione, dell'inquinamento. Vale a dire, il Papa Francesco l'ha detto molto bene, non si può pensare di avere esseri umani sani in un mondo che è malato. Noi abbiamo un mondo malato perché siamo collegati a tutti quanti. Noi come esseri umani siamo parte di qualche cosa che è tutto legato, noi siamo legati ai vermi come ai maiali, come alle bestie, come agli alberi, come alle piante, non siamo tutti un unicum e se noi devastiamo l'ambiente comincia da lontano il guasto e il guasto cosa significa? Che per salvarsi ognuno cerca di passare in un corpo, nell'organismo dell'altro fino a produrre il coronavirus. Allora oggi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo cambiare questo sistema e questo sistema ricorda questa necessità di cambiamento, ricorda il concetto di società partigiana. Dobbiamo lottare, non con le armi naturalmente, per cambiare questo sistema, quindi l'apputare contro chi vorrebbe che ricominciassimo adesso da capo come prima, con una produzione analoga a quella di prima e non dobbiamo e possiamo farlo, ma dobbiamo anche noi nella nostra vita quotidiana aiutare questo progetto di trasformazione, cominciando noi stessi a operare in modo di ridurre i nostri consumi dissennati perché ogni i nostri consumi, il livello dei nostri consumi ha già portato alla distruzione di questo, stiamo già consumando questo pianeta. I dati ci dicono che noi siamo già sotto, il nostro pianeta già si è cominciato a consumare maledettamente, allora dobbiamo cominciare a capire che non si può andare avanti con i supermarket pieni e continuano, vedete che mentre si parla del coronavirus continuano a darci le immagini dei supermercati con tutti gli incredibili prodotti, sono tutti prodotti che per produrli inquinano ancora di più l'ambiente, dobbiamo abituarci noi stessi a chiedere che ci siano più servizi, più ospedali, più università, più servizi di cura, che poi sono quelli che se non ci sono rendono la nostra vita infelice e meno merci da consumare in larga parte superflua. Abbiamo bisogno per questo, per questa transizione difficile che è essenziale affinché un nuovo virus non si ripresenti fra due anni, anche se per questo magari troveremo un vaccino e questo lo chiamo società partigiana. E mi meraviglia e lo trovo bellissimo che in questo 25 aprile, questa volta, c'è una mobilitazione di iniziative inimmaginabili. C'erano anni che il 25 aprile non veniva celebrata con tante iniziative come adesso. Adesso tutti i piccoli gruppi, le associazioni, le reti, persino le reti di quartiere si sono impegnati a fare qualche cosa per il 25 aprile. E io credo che sia la dimostrazione che la gente ha cominciato a rendersi conto che la nostra salvezza dipende da come è fatta la nostra comunità mondiale e che abbiamo bisogno gli uni degli altri e che nessuno si può salvare da solo. Si possono salvare per un po' i ricchi e basta perché i più poveri già soffrono nelle queste situazioni. Basta vedere anche adesso. I più, i più, quelli che se lo possono permettere stanno a casa senza correre i rischi. I più poveri sono costretti ad andare per la strada. Luciana, allora, con questo meraviglioso auspicio, diciamo, di nuova lettura del 25 aprile in chiave moderna. Noi ti ringraziamo di essere stati con noi e buon 25 aprile anche a te. E spero che Pisa, che è una città che amo per tante ragioni, diventi di nuovo come Stato, perché lo è stata molto una città partigiana e sono certa che lo farà e che l'arsenale svolgerà un ruolo decisivo nella costruzione della nuova società partigiana. Me lo prometti, Alberto? Te lo prometto, è quello che stavo provando a fare sempre. Va bene, sentiti partigiano anche te. Sei un po' partigiano. Hai capito? Va bene, ti ringrazio, mi sentirò un po' partigiano anch'io. Ciao.